Potrei tranquillamente fare il video in mezzo alla strada E nessuno mi investirebbe A Houston dove siamo adesso Prezzo medio delle case in un quartiere così Senza la macchina questi posti diventano una specie di prigione Sono a Houston in questi giorni In visita ad alcuni miei amici E quale posto più bello ragazzi Quale posto più bello di un bellissimo quartiere americano Per fare un video sull'America Oggi, in questo giorno di giugno Un video sull'America In particolare su una versione dell'America Una versione dell'American Dream Che è una versione a cui tanti aspirano Una versione che tanti amano Il desiderio di tantissimi Quello di possedere una casa Una bella casa In un quartiere così come questo Con questi prati bellissimi Con questi alberi Con queste case che sembrano quasi da film Quasi da sogno Certo ci sono diverse versioni dell'American Dream Ma questa secondo me rimane una di quelle più autentiche Una di quelle più belle, più amate Più anche idealizzate forse Di questo paese Specialmente perché come anche noi Che siamo immigrati Abbiamo conosciuto inizialmente questo paese da lontano Guardando i video, guardando i film Di posti come questi ne abbiamo visti forse tantissimi Vedervi dal vivo Passeggiare dal vivo in questi posti È sempre un'esperienza bellissima E vi ricordo che se sognate di trasferirvi negli Stati Uniti Ma non sapete come fare Il primo posto dove andare è il mio sito Italy2USA.com Visitatelo, troverete tutte le risorse che vi servono Per capire se questo percorso fa per voi E se sì, come potete iniziarlo I prati tagliati, nulla fuori posto Pochissime macchine, tanto ordine Sembra a volte tutto perfetto in questi quartieri Il giornale è arrivato Sono certo che molti di voi che sognano l'America Sognano una vita un giorno in un posto così E allora seguite questo video perché voglio raccontarvi Di questi posti, di questi quartieri I cosiddetti suburbs Che sono queste città Potremmo chiamarle città satellite Costruite attorno alle grandi città Spesso sono anche molto lontane dalle grandi città Stesse, no? Magari anche 30-40 minuti dal centro Delle grandi città Ma che sono quasi un mondo a parte Un mondo bellissimo e tutto Da vedere e da raccontare Questa casa è in vendita Se siete interessati Contattate Christy Del Southern Star Realty Realty E questi alberi Sono molto molto texani E una cosa tipica di questi quartieri Sono le strade senza uscita No outlet Potremmo chiamarle in italiano Cold Sack forse In realtà in francese, no? E questo garantisce una certa pace Nelle vostre case Nel vostro stile di vita E anche per le vostre famiglie E poi neanche tanto ai margini del quartiere Anzi quasi nel mezzo del quartiere Ci sono queste zone ricreative Come parchi Oppure in questo caso vedete Tennis club E poi se si continua Di fianco ai campi Comincia un bike trail Cioè una specie di parco nel parco Potremmo chiamarle un'area Diciamo proprio per chi vuole andare in bicicletta Camminare Isolata dalle strade Senza le strade Ecco vedete le recensioni delle case Sul retro E qui passano questo bike trail Ecco qua qualcuno in bicicletta E qui il retro delle case E questi percorsi corrono attorno a tutto il quartiere Sono anche spesso molto lunghi Sono un ottimo luogo per fare esercizio Ecco i campi da tennis dove giocano gli adulti Il mio amico che vive in questo quartiere Da cui sono ospiti in questi giorni All'estate di mattina Oggi è un sabato Si è alzato All'estate di mattina era qui a giocare Con i suoi amici Con i vicini Che divertimenti per loro Questo simbolo dell'altalena Davvero mi mancava di vederlo Una sorta di avvertimento Ci sono bambini che giocano da queste parti Quindi se siete in macchina Slow down Fate attenzione Andate piano Questo ragiona molto secondo me Con la cultura di questi quartieri Incentrati sulla famiglia Sono proprio fatti Per le famiglie E per la loro sicurezza E quindi come potremmo definire questi suburbs Questi quartieri Sono interessanti Perché sono di fatto comunità Con solamente case Solo case Di fianco a casa vostra Non ci sarà mai un bar Ma ci saranno solo delle case Se cercate dei negozi Questo non è il posto giusto Perché per i negozi sono tutti nella stessa zona Tutti uno vicino all'altro Ma non sono di fianco alla vostra casa Quindi questa è una cosa di segnalare interessante E sono tutti negozi molto grandi Con parcheggi giganteschi Stessa cosa per le scuole Tutte nella stessa zona Tutte accessibili Con un sistema di strade Molto molto articolato Anche i ristoranti Spesso tutti in una zona E a proposito di Ristorante Siamo andati in un ristorante fantastico Uno dei più texani Dove io siamo stato C'era la band che suonava Canzoni country C'erano bandiere degli Stati Uniti Bandiere del Texas Dovunque Super pittoresco Mi dispiace che questa mattina Non ci sia il sole Ma devo ammettere Che se ci fosse il sole Sarebbe un caldo pazzesco Quindi spero che il sole Non venga fuori Perché non ho finito di fare Questa chiacchierata Per il quartiere Quartieri come questi Sono dovunque negli Stati Uniti Sono anche città stesse In parte E sono anche molto grandi In certi posti Allora per esempio Prendiamo Dallas Frisco Pleno Sono suburbs come questi Sono grandi più di certe città italiane A Houston dove siamo adesso Sono le Woodlands Sugarland Cyprus Se penso a San Antonio Penso a Chavano Park Se penso a Chicago Penso a Naperville Se penso a Minneapolis Dove io vivevo I quartieri come questi Sono Idina E Maple Grove Dove vive uno dei miei migliori amici E questi quartieri Sono talmente grandi Che hanno un senso di identità Particolare per le persone Che ci vivono Nel senso In una città come Houston Prendiamo non so Cyprus O Sugarland O The Woodlands Mi raccontavano I miei amici texani Che quando tu incontri All'università Vai all'Università O Texas Perché sei di Houston Tu non dici che sei di Houston Ma già dici Che sei magari di Sugarland O di The Woodlands Perché comunque Anche andando Nella high school Eccetera Ciascuna high school Di queste città Ha il loro team Quindi c'è già un senso Di rivalità E sono già quindi Anche conosciute Attraverso il Texas Quindi magari uno dirà I'm from Houston Ma dirà Sono di Sugarland Sono from The Woodlands Anche le chiese Questa è la chiesa del quartiere Sono ovviamente gigantesche In Texas Prezzo medio Delle case In un quartiere così Che è un tipico quartiere Middle class Maybe a little higher Middle class 500.000 dollari Tenete conto che In questo periodo È difficile comprare una casa I prezzi si sono alzati Adesso vedremo cosa succederà Con quello che è successo Con gli interest rates Con la Fed E l'economia In chiara difficoltà Però questo è Il prezzo range Direi Maggior parte delle case Sono a due piani Molte di queste Hanno la piscina Quelle che non ce l'hanno Possono comunque contare Su un quartiere Che ha accesso A tante attività recreative Non solo No Qui il campo da tennis Che vediamo Ma un esempio Possono essere anche Le piscine proprio Del quartiere Dove si può andare Ci sono In questi quartieri Svariati club Più o meno privati Con accesso A qualunque cosa Allora in questo c'è Una palestra grandissima Nella stessa struttura Una basketball court Due piscine Una per gli adulti Una per i bambini Di fianco a quella degli adulti C'è un bar Negli spogliatori Che sono forse Tra i più belli Che abbiamo mai visto Ci sono addirittura Delle poltrone Diversi giant tv screen Insomma davvero Posti niente male E poi anche Zone per giocare Per i bambini Naturalmente Non manca Una casa Con la bandiera Praticamente Zero macchine Che passano In questo quartiere Potrei tranquillamente Fare il video In mezzo alla strada E nessuno Mi investirebbe È incredibile La differenza Fra Austin e Houston Il caldo Fa caldo in Texas Ma a Houston È molto più umido Si sente moltissimo E sono solo Le nove di mattina E quando cammino Per questi quartieri Da immigrato Da persona che non è nata Negli Stati Uniti E vede questo contrasto Anche rispetto Ai quartieri Dove io personalmente Sono cresciuto in Italia La prima cosa Che mi salta gli occhi È la sicurezza Il senso di sicurezza E questo sotto due aspetti Sicurezza Della propria casa Della proprietà privata Nel senso che La struttura Di questi quartieri Di fatto rende piuttosto Complicata la vita Ai potenziali ladri Nel senso che Dileguarsi Da un quartiere così Dove non c'è immediato Accesso a Diciamo strade A scorrimento veloce Strade in cui uno Si può davvero Dileguare velocemente Se commette qualcosa È piuttosto complicato Per loro La vita in posti Del genere E sono quartieri Molto silenziosi Molto sicuri Molto spesso Se passa una macchina Qualcuno lo nota E se passa una macchina Che magari non è La macchina che uno Si aspetta di vedere E magari se è una macchina Che qualcuno Non ha mai visto Qualcuno lo nota Ma poi c'è anche Il discorso della sicurezza Per quanto riguarda Le famiglie e i bambini Penso per esempio Ai bambini Che in posti del genere Sicuramente Possono essere più sicuri Possono giocare davanti a casa Senza il rischio Che una macchina In corsa Veloce Li possa investire Poi il senso di pace E di relax Che questi posti Si respira davvero Forse anche grazie A questa pace A questo silenzio A questo verde E al fatto che Questi quartieri Sono stati congegnati Perché non ci siano camion Che passano davanti A queste case O magari anche Molte e molte macchine Di macchine Penso ne avete viste Pochissime sinora C'è anche chi non vede Positivamente Però Certi quartieri Come questo E questo stile di vita C'è un mio amico Che vive in Minnesota Uno dei miei migliori amici Lui non è mai stato Un fan di questo tipo di vita Lui dice che invece È più bello vivere in Europa Dove per esempio Se scendi Se scendi da casa Dal tuo appartamento Tutto è lì Subito è tutto lì Il supermercato Il bar O qualunque cosa Di cui tu hai bisogno Qui effettivamente Senza la macchina Questi posti Diventano una specie di prigione Tutti hanno una macchina qui Perché ovviamente È necessaria Per andare a fare Qualunque cosa Al di fuori Della propria casa Una qualunque commissione Se dovete farla Non probabilmente Ci metterete Meno di un'ora Perché 10 minuti Magari per andare 10 minuti per tornare Il tempo di parlare Con una persona Piuttosto che fare la spesa In questi supermercati Che peraltro sono giganteschi Fattori da considerare Fate un passo indietro Di due anni 2020 La pandemia Pensate a una famiglia Che vive in un appartamento A Brooklyn Appartamento piccolo Poco spazio E poi improvvisamente La pandemia cambia tutto E praticamente Fa diventare Il lavoro remoto Una realtà Che probabilmente Non se ne andrà più Ecco Allora capito Che vivere in posti del genere Con tutto questo spazio Queste bellissime case A prezzi più contenuti Che nello stato del New York Ma soprattutto Con stipendi Che sono Che vi portano più avanti Perché con uno stipendio Di New York A venire in Texas Si vive veramente bene Ecco si capisce Perché gli stati del sud Specialmente Texas e Florida Sono posti dove tutti Si stanno trasferendo E si sono trasferiti Negli ultimi anni Però insomma Il covid ormai è passato E la cosa bella È che recentemente Gli Stati Uniti Hanno riaperto I viaggi Senza la necessità Di un test Negativo al covid Se appunto Venite da uno stato straniero Da un paese straniero E quindi Tanti di voi immagino Penseranno di venire Negli Stati Uniti In vacanza presto E io invito tutti A fare un giro In uno di questi quartieri A vedere come sono A sperimentare Questo tipo di vita American Anche solo a volte Respirarla Assaporarla A parte dell'American Dream Che merita di essere vista Un saluto da Houston E until next time Peace out Ciao 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 Ciao